Quirinale, sulla conquista del Colle si sta giocando una partita nella partita. Non solo quella tra chi ambisce alla carica di Presidente della Repubblica. Ma anche tra i leader dei partiti che sull'elezione del Capo dello Stato ipotecano una bella fetta di futuro. Se nelle elezioni del 2015 gli attori principali sulla scena erano il 64enne Pierluigi Bersani e il 78enne Silvio Berlusconi, adesso il quadro è ben diverso. In realtà c'è una costante ed è naturalmente Matteo Renzi. Ma oltre a lui, oggi 47enne, gli altri protagonisti del match sono sempre 40-50enni, Giorgia Meloni 44 anni, Matteo Salvini 48, Enrico Letta 55 e Giuseppe Conte 57. Un dato anagrafico che evidenzia un sostanziale svecchiamento della classe politica italiana. Se ai nomi già citati infatti aggiungiamo quello di Luigi Di Maio, 35 anni, si tratta probabilmente della classe politica più giovane che si sia mai giocata la partita del Colle nella storia della Repubblica. E allora vediamo le mosse di ognuno di loro. Da leader nazional populista con sedicenti ambizioni di rompere gli schemi tra destra e sinistra, il leghista Salvini da un paio d'anni a questa parte si è ritrovato ad essere un liberal populista come già lo era stato Berlusconi, dovendo rincorrere a destra la Meloni che sopravanza. Da quando, in pieno Covid, è entrato nel governo di larga intese presieduto da Mario Draghi ha assunto un atteggiamento molto ambiguo sia nei confronti della pandemia sia nei confronti del governo medesimo. Con questo atteggiamento non ha guadagnato al centro e ha perso a destra fino a farsi sorpassare nei sondaggi dal partito di Giorgia Meloni, se non altro più coerente nella sua linea politica. Venendo ad oggi, nella partita del Colle, Salvini sembra muoversi su due versanti. Questa volta la sua ambiguità viene riversata sul centro-destra. Da un lato ha sostenuto ufficialmente la candidatura di Berlusconi, dall'altro negli ultimi giorni ha fatto sapere che le carte della Lega devono ancora essere scoperte. E in effetti oggi ha prima annunciato di voler coinvolgere Berlusconi nella scelta di un nome per il Colle, e quindi implicitamente ha escluso quello del presidente di Forza Italia, e poi ha incontrato Conte per cercare una soluzione condivisa.